intanto vi avviso che non è spoiler questa recensione quindi state tranquilli allora pray è un film del 2022 quindi appena uscito sulla piattaforma disney quindi praticamente ha saltato la sala di dan trachtenberg dan trachtenberg è il regista di clover fi e ten clover fi lane nel 2016 che è appunto un film nell'universo di cloverfield non ha fatto tantissime cose ha fatto forse un altro paio di film che non conosco e poi ha fatto forse forse neanche un paio forse solo uno e poi ha fatto un episodio di black mirror un episodio di the boys così giusto per tenersi all'allenamento penso questo predato questo pray è un prequel dei quattro film di predator che io non ricordo però il cofanetto quindi forse a me lì mi riguarderò e la sala sarà sarebbe meritato un ottimo film estivo si diciamo che molti film se la meritano questo sicuramente a piene mani è un film tra l'altro se non ricordo esattamente che ha tipo una decina d'anni di storia nel senso che è un'idea che ballenava nella testa di trachtenberg e altra gente da tanti anni ed era in ballo da un po per la fine è stata realizzata all'inizio si diciamo che il nome del progetto era skulls teschi sapete che i predator collezionano teschi di vari esseri perché per loro non c'è differenza tra un cane un leone è un essere umano per loro siamo delle specie che loro scoprono e essendo loro una razza di cacciatori insomma cacciano quello che gli capita quello che mi piace e che collezionano i teschi collezionati e scrivere loro prede infatti anche poi in questo film ci sarà questa questione qua la serie intorno ruota intorno a questa ragazza indiana una comancis appunto ambientato nel 1700 che è una come tutte le donne in quell'epoca in quelle tribù erano una donna che si occupava di altro e che non poteva chiaramente essere una cacciatrice una guerriera ma lei voleva assolutamente diciamo ricoprire quel ruolo quindi in realtà era una guaritrice insomma il medico del della tribù con questo fratello che invece è il capo dei cacciatori che un super figo sa fare tutto lui eccetera molto disneyano no come approccio iniziale lei chi vuole diventare una cacciatrice chi prova a farcela non ce la fa eccetera eccetera però scopriamosi dall'inizio che questa ragazza intanto se la cava anche abbastanza bene con le sue armi con l'arco con la la cazza si chiama lascia loro insomma ricordate minciato come si chiama la loro arma e poi ha delle caratteristiche particolari cioè è molto intelligente e conosce benissimo appunto le cure medicali insomma che fatte con le erbe con le cose loro insomma tutte cose tutti elementi particolari delle del personaggio che saranno molto utili poi racconto il tomahawk esatto bravissimo sapevo che mi avreste aiutato molto facilmente cose molto utili per per la storia adesso vediamo anche perché inizierò praticamente a parlare subito della sceneggiatura il film è scritto bene cioè non non che non è non che non ci siano sbavature cose meno precise meno argute però nella sua totalità è scritto bene nel senso che tutti gli atti sono scritti bene tutti i pezzi si congiungono e ve ne accorgerete dal fatto che non annoia praticamente mai non ha quel classico momento abbastanza tipico in tantissimi film fatti male in cui a metà vi rompete i coglioni e che è il classico punto in cui quasi tutti i sceneggiatori produttori di hollywood infilano roba perché non sa perché devono far durare i film due ore e mezza tutti anche quelli che non hanno un cazzo da dire questo è un film che in realtà ha tanto da dire perché ha un personaggio molto complesso molto ricco che ha tante sfaccettature profondo e infatti poi alla fine secondo me ovviamente sapete un film d'azione per cui ci sarà uno scontro finale questo non è uno spoiler no è una struttura non è una non è uno spoiler quindi lo scontro finale diventa figo nel momento in cui voi vi sentite totalmente in linea col personaggio lo avete capito accetta avete accettato le sue qualità i suoi difetti quindi siete entrati in simbiosi alla fine vi divertirete se appunto il regista riesce a farvi amare il personaggio a farvelo affezionare in qualche maniera quindi c'è uno sviluppo del del personaggio efficace e coinvolgente le doti e le disavventure del personaggio questa cosa molto bella della storia le doti quindi le sue capacità mediche le sue abilità di ingegno le permetteranno di costruire delle cose di fare delle cose di salvare delle situazioni e lo vedrete dopo quindi sarà tutta una concatenazione di causa effetto diciamo non so se è il giusto termine però è così che avverrà avverrà il tutto e secondo me questo è quello che rende la sceneggiatura molto molto divertente perché fa quella cosa che molti film dovrebbero fare cioè vi stimolano a mettere insieme due pezzi semplici della trama cioè noi non siamo come dire in questo tipo di film ma non è film un po più artistici su tipo di film commerciali di intrattenimento il divertimento non sta solo nel vedere grandi scene bellissime il divertimento sta nell'unire puntini come nelle parole crociate sapete che c'è l'esercizio dove si uniscono i puntini e unire punti è una cosa semplice ma il regista te lo deve far fare a te cioè quindi tu dici ha visto che quella capacità lì è riuscito a fare quella cosa l'ha visto che aveva avuto quell'esperienza lì ora l'ha sfruttata per fare questa cosa qua ecco questo unire i puntini è un semplice esercizio mentale che rende divertente il film perché mantiene attiva l'attenzione dello spettatore quindi in questo senso è scritto benissimo poi qualcosina che proprio si poteva scrivere anche un po meglio non vi dico cosa sul finale perché sennò sarebbe spoiler ci sono delle ci sono delle cose per esempio c'è una cosa molto carina che riguarda il primo film di predator vediamo sforzenegger ricoprirsi di fango probabilmente anche molto freddo no e questo impedisce al predator di vederlo che ha il predetto una vista che permette di vedere le fonti di calore quindi lui si maschera in questa maniera in una scena dove appunto a finale dove stanno combattendo ecco in questo vi c'è un'altra idea ovviamente un po fantascientifica ma comunque che funziona che che più o meno si ispira a quella cosa lì il film è fatto veramente fatto è scritto veramente bene secondo me è per quello intrattiene rimane proprio divertente dall'inizio alla fine chiaramente deve essere vostro genere cioè vi deve piacere i film d'avventura con scene di combattimenti un po di tecnologie cose del genere devo dire che visivamente molto bello perché l'ambientazione finissima l'ambientazione di queste praterie boschi posti stupendi eccetera animali ci sono animali meravigliosi e ecco ne approfitto per parlare di effetti speciali che sono tutti stupendi se sono tutti fatti alla grande tranne secondo me la cgi degli animali perché qualcuno ha detto no ma secondo me sono realistici il problema qual è che gli animali possono anche essere realistici anche se secondo me in realtà non è così perché in alcuni casi la fotografia li rende proprio staccati staccati dal ma sto parlando di cose che sono perci e sono è possibile percepire solo veramente a un occhio molto attento quindi diciamo che il grande pubblico non se ne accorgerà però c'è una cosa quindi appunto questa questa disonanza di fotografia in alcune scene dell'animale e dell'ambiente magari è una cosa che percepisce chi ha lavorato io per esempio non è che sono chissà chi però insomma da ragazzo ho lavorato col 3d ho fatto modellazione e animazione 3d forse ho un occhio più sofisticato in questo comunque il vero problema della poca veridicità degli animali sta nel nelle movenze e negli atteggiamenti quelle sono scelte che che sono state fatte quindi sono secondo me errori perché comunque per rendere un animale per esempio un orso più spaventoso lo si caricaturizza fino a farlo sembrare non reale quindi non più spaventoso quindi secondo me c'è un errore che poi torna indietro e poi soprattutto certi animali non si muovono come si muovono nel film cioè io ho visto un lupo correre e una lepre correre e nel film ci sono e una lepre che corre per non essere presa dal lupo non corre così e questo ve ne accorgerete se questo è il problema perché in realtà sono anche fatti bene gli animali cioè a livello proprio di costruzione del modello sono realistici di brutto sono proprio fenomenali da quel punto di vista però è chiaro che se poi non si muovono e non si comportano come gli animali veri non hanno anche quel peso specifico non so se vi annoia tutto questo tecnicismo ma un animale quando si muove ha un peso e lo senti ecco spesso nei nel 3d stato nel 3d gli animali sono leggiadri sono sospesi sono non viene non si riesce a dare quel senso di peso rispetto da altri film questi animali sono anche fatti meglio cioè come modellazione sono fatti molto meglio di tantissimi altri film ma certe movenze certe cose sono sono esagerate sono fatte apposta così è una scelta che secondo me invece di dare realismo lo toglie però una scelta io non penso che l'abbiano fatto per sbaglio hanno fatto per scelta ha voluto spingere un po su quell'aspetto lì e sto tirando l'acqua addosso e quindi niente per me è una piccola nota di merito però niente di che insomma poi nel nel come vi ho già detto il film intrattiene di brutto un'altra cosa che secondo me non è di altissimo livello e la recitazione è una recitazione buona alla hollywood cioè quindi tutti mediamente bravi ma insomma niente di esagerato ovviamente io ho visto il film in lingua originale e qua si apre una questione molto interessante che ne parliamo perché vederlo in italiano non ha senso non è la recitazione degli attori poi c'è a chi piace però diciamo una recitazione sufficiente buona giusta per per essere fruito con piacere mentre la protagonista sarà che io mi sono mezzo invadito perché proprio mi piace e quindi forse non sono lucido ma io l'ho trovata molto molto coinvolgente efficace non perfetta però l'ho trovata capace di trasmettere emozione a uno scusate mi sono tirato addosso ok facendo un casino ha degli occhi molto grandi molto espressivi e quindi è molto ammaliante molto attira molto l'attenzione buca lo schermo è mai piaciuta parecchio anche se lì ci vedo non voglio fare rompi i coglioni dei dettagli però diciamo una ragazza un po più una ragazza che si allena così tanto per combattere è un po meno è un pochino più muscolosa di solito nel suo caso lei dovrebbe essere molto più muscolosa di così e non lo è quindi c'è a lì c'è un pochino anche di non lo so se di pigrizia loro nel senso alleati un mesetto fai qualcosa insomma perché io l'avrei vista bene un po più atletica però per il resto comunque funziona sono proprio dettagli perché se stiamo a guardare ste robe in tutti i film non ne usciamo più lo faccio più guarda come dicevo anche in un'altra live lo faccio più per il content di parlare di andare anche a guardare le piccolezze io tendenzialmente non sono per rompere il cazzo ai film per le piccolezze però visto che sono qua a fare un contenuto anche per appunto approfondirlo eccetera può capitare che mi soffermi anche su delle piccolezze che possono essere dei difetti o che io comunque ritengo dei difetti però io non assolutamente non non giudico male un film per quattro cose del cazzo così cioè se il film funziona funziona cioè anzi chi se ne frega i film sono sono giusto che siano imperfetti però questo film poteva essere veramente molto meglio non per queste due roma per un'altra poi poi vi spiego qual è dal disney sa scegliere le sue principesse probabilmente questa è la risposta a me è riuscita veramente a magliarmi un altro un altro sembra che rompe i coglioni al film la ragazza è palesemente messicana e non ha quello che noi comunque conosciamo come lineamenti da indiano da comanche quindi un po fa strano ragazzi vedere sta ragazza così con i colori proprio è proprio messicana vero che il territorio degli indiani si spingeva anche fino a fino a giù fino al messico c'è nel senso però mi sembrava improbabile che ci siano quei lineamenti non so magari non sono antropologo quindi non posso dire diciamo che per la mia concezione dell'indiano mi sembrava un po troppo messicana lei comunque mi è piaciuta tantissimo super buona super buona ma anche molto coinvolgente comunque mi è piaciuta perché ha questi occhi estremamente espressivi il film ha una bella fotografia ma sempre negli standard non c'è niente di estremamente artistico è la fotografia che piace e omologata un po anche la regia è così forse questa è una regia però un pochino più interessante perché si vede che c'è uno capace io sinceramente a livello di regia non ho visto niente che non vada e questo è non è poco perché tante volte anche bravi registi comunque alcune cose bravi bravi cioè non quelli bravi registi dignitosi a volte le cose strane che invece ma perché cioè proprio senza senso però del resto comunque era molto bella anche quella di tank rover fill in che tra l'altro girato praticamente tutto in più piccoli spazi c'è un aspetto interessante di questo pre che riguarda il corra perché in questo film in teoria c'è tanto giorno c'è tanto il problema qual è che non è neanche un problema in realtà mi correndo non è un problema una scelta è un gorra che ogni tanto si vede ogni tanto no però c'è tantissimo gorra ed è molto raccontato tramite il sonoro e questa è una scelta molto bella molto cinematografica secondo me e un po sembra quasi una scelta disneyana nel senso visto che è un film che va su disney allora lo facciamo con una violenza che non è esplicita visivamente ma è esplicita a livello sonoro per cui qualcosina c'è effettivamente sì però diciamo che ci sono persone fatte a pezzi che non verranno viste ci sono persone a cui magari vengono colpite dai dardi dalle frecce in faccia e vengono colpite lo vedi ok ma quello non è il vero uomo il vero uomo è proprio lo splatter amputazioni c'è poca roba diciamo cioè non è che c'è poca roba molte robe sono nascoste forse perché fare tutto esplicito forse per una questione dei costi forse per una questione di auto censura o forse perché non si vuole portare il film a un essere una mera mattanza di budella che poi sembra splatter schizza cervelli per cui anche una scelta stilistica secondo me è giusta non trasformare predator in un film ultra gore che sarebbe piaciuto a un casino a una piccola nicchia e molto meno tantissimi altri ciao thomas benvenuto stavo parlando di pre ho finito ma non ho finito quasi finito comunque vabbè sul discorso dello splatter secondo me spacca il fatto che comunque ce ne sia tanto ma è molto suggerito tramite il sonoro secondo me non è necessario a grande mi fa piacere e non è necessario far vedere sempre la gente squartata lo dice uno che comunque amano splatter a mi diverte no secondo me anche c'è anche dietro una scelta stilistica perché se tu pensi al ca che c'è un signore un connubio di cose perché se tu pensi a questo film con tutte le scene di sbudellamenti eccetera le pensi esplicitate non è più non è neanche più un film della saga predator cioè proprio e va direttamente nelle nella categoria film estremi cioè non puoi mostrare tutta quella roba lì in realtà comunque le scene gore ci sono ci sono braccia amputate gambe amputate ce n'è di roba ce n'è di roba per essere un film così non dico per famiglie per cui secondo me in realtà è anche per non cambiare troppo il genere al film è comunque un film di fantascienza avventura e non è un horror in realtà non lo è quasi mai stato nel senso che è un predator è un film che è cross non è un film per famiglie però è che comunque questo questo ma anche gli altri sono stati pensati per per allargare il pubblico soprattutto questo quindi no il film per famiglie sono c'è basley tear cioè quelli però è comunque un film per il grande pubblico è vietato ai minori di 14 anni e questa è una scelta cioè il fatto che sia vietato i minori di 14 anni non è una scelta disney è una scelta di pubblico e di a priori per cui un po secondo me c'è l'influenza disney un po c'è l'autocensura perché non si vuole appunto ridurre il pubblico e non si vuole neanche cambiare il genere del film perché appunto se lo fai troppo splatter come sarebbe piaciuto comunque anche anche a me più un po più splatter però secondo me cambia proprio cambia proprio il film poi non è non è neanche più in linea ma neanche alien è così cioè neanche gli alien sono una mattanza completa no ci sono i punti salienti ci sono le scene splatter però non sono un continuo di lo stesso è lo stesso anche questo film sono film che raccontano delle storie in realtà il gore lo splatter c'è bisogna fare questo questo distingo non è mostrato visivamente ma è comunque mostrato a livello di sonoro quindi non è non è proprio una scelta stilistica ed è interessante perché in tanti casi l'autocensura quella di cui stiamo parlando è totale nascondere non far vedere la scena ridurre il suono invece qua il suono è stato potenziato è stato curato in ogni minimo dettaglio tu capisci cosa sta succedendo solo sentendo il suono e quindi secondo me è una scelta comunque votata a rendere il film crudo poi è chiaro noi siamo abituati a vederle le cose io ho apprezzato molto il film ci sono dei momenti molto posticci ma viene compensato da scene molto interessanti i combattimenti sono violenti ed analisi ecco mi soffermo sui combattimenti allora due cose grazie thomas scrivetevi a discord mi raccomando due cose sui combattimenti ovviamente i combattimenti sono bellissimi nel senso non che siano i migliori combattimenti non stiamo entrando in merito sono fatti bene sono divertenti hanno unito lo stile di combattimento ci sono riusciti a dargli lo stile di combattimento dei dei nativi americani gli indiani quindi a dargli quella però comunque anche si muovono anche un po in un modo arti marziali miste che forse non esiste ok non esisteva hanno fatto un ibrido perché un indiano non combatteva così c'è però però erano grandi combattenti sicuramente avevano le loro loro studio delle arti marziali non al loro studio dei combattimenti qui è una versione ibrida no cinematografica per cui tra quello che noi conosciamo dei combattimenti di arti marziali miste che vengono ormai che hanno un po incontaminato tutto il cinema e però non gli hanno dato anche molto il look il le movenze da indiano d'america secondo me quindi un ottimo un ottima commissione per rendere il film divertente scene esaltanti sono d'accordo poi un'altra cosa che secondo me ha reso molto divertente tutta la parte di combattimenti la parte action è il fatto che il predator è una figata galattica c'è questo predator è stupendo è veramente fatto da dio non ha niente che non vada bellissimo il design sono bellissime le scelte estetiche perché abbiamo un predator vintage c'è un predator che mantiene riesce a fare due cose fantastiche mantenere un collegamento estetico di design non parlo solo di lui ma anche della sua vista quello che che vede nella vista è molto collegato a quello al vecchio predator senza appunto stonare senza risultare troppo retro sono state fatte delle scelte molto intelligenti e anche lui di design è un è un capo è lo stesso che predator meno tecnologico c'è meno metallo ha infatti tipo l'elmo è fatto di osso comunque i dardi che lui usa sono se dei semplici dardi metallici c'è un po meno tecnologia c'è comunque della tecnologia robe però un pochino un ibrido tra la cosa vecchia una cosa nuova è fatto da dio design bellissimo caratterizzazione del personaggio stupenda perché in linea con con i predator che sono tutti uguali sono praticamente dei maschi alfa votati alla violenza e a dimostrare quanto c'erano duro caccianto e è molto bello perché è un film che parla stando zitto cioè con pochi gesti fa capire il il carattere del predator come ragione al predator predator non ammazza una preda legata una preda intrappolata nel predator si comporta da cacciatore e voi lo capite senza che vi venga fuori la didascalia e questo è fare cinema bene quindi secondo me è un fatto molto bene passiamo al paradosso c'è un paradosso in questo film molto interessante ci sono due temi di cui va lunga sta recensione ragazzi mi spiace ci sono due temi interessanti il paradosso è questo il film è su disney plus in lingua italiana e inglese io lo metto su dico ma col cazzo che lo vedo in italiano lo guardo in inglese poi lo guardo e dico ma cazzo però i cominci che parlano inglese mi fa strano però dico che cazzo faccio guardi in italiano no perché voglio vedere come recitano gli attori quindi me lo sono guardato in inglese peccato che poi dopo vi dico vi svelo un'altra cosa quindi cato che succede questa cosa qua il loro parlano inglese e questo già fa strano c'è come fa un cominci parlare inglese poi avranno a che fare con dei colonizzatori francesi e questi parlano in francese ok il traduttore il traduttore dei dei francesi parlerà con la ragazza in inglese ma in teoria dovrei parlargli in cominci e poi c'è un piccolo paradosso quindi qualcosa non torna ma il paradosso vero sarebbe questo se i cominci e della ragazza avesse incontrato degli inglesi ok se si fossero incontrati nel film e lei avesse parlato in inglese e loro in inglese non si sarebbero dovuti capire e quindi noi avremmo visto delle scene in cui parlano e non si capiscono ma parlano la stessa lingua questo è il paradosso di questa cosa qua è assurdo però c'è una cosa assurda una cosa assurda però c'è da fare due riflessioni una è quella che effettivamente chi cazzo lo guarda un film tutto in cominci perché è un film che i protagonisti sono tutti indiani il predato non parla e i francesi arrivano tardi quindi chi cazzo se lo guarda è vero anche che ha un aspetto molto interessante questo che è poco parlato non ha tantissimi dialoghi perché comunque tante scene sono legate a dei viaggi degli spostamenti che fa la protagonista e non parla molto insomma non è che si fa le chiacchierate quindi da una parte bisogna chiudere un occhio sul discorso della della lingua perché dice vabbè come faccio a farlo vedere delle persone che chiedevano per forza a leggere i sottotitoli non so neppure quanto sia facile trovare un traduttore di lingua cominci intendi ma quindi nel traduttore per fare i testi cioè per fare i dialoghi del film perché quello non è difficile paghi trovi tutto nel mondo io pensavo che intendessi che i francesi avessero un traduttore con loro quello poi in realtà no anche quelle credibili no io penso che sia semplice infatti caro vito ho scoperto poi che e con grande dispiacere perché vi garantisco che se non avrei visto in quel modo lì il carissimo regista ha pubblicato sempre su disney plus ma negli extra quindi me ne sono accorto solo dopo la versione cominci col doppiaggio cominci quindi il film è recitato in inglese e doppiato in cominci allora a quel punto se mi guardo loro che faranno in cominci sottotitolati incontrano i francesi tutto torna e il film è figo e infatti siccome il film è figo comunque perché è divertente è un grandissimo film di intrattenimento una bella storia divertente tutto però secondo me se lo avessi visto in lingua cominci mi sarebbe piaciuto ma veramente in un modo pazzesco perché avrebbe avuto veramente un realismo che molto forte molto forte perché fin comunque fatto bene anzi devo ritrattare una cosa che dicevo qualche giorno fa basandomi sul trailer ma il trailer sono sempre un po lo dico sempre cioè io dico le cose ma poi bisogna vedere il film pensavo che fossero fatti peggio gli indiani dal trailer mi sembravano troppo laccati diciamo troppo finti invece devo dire che guardandolo mi è sembrato una rappresentazione dignitosa abbastanza realistica anche se appunto parlo non appunto come antropologo che sa come cazzo erano gli indiani ma come per quella che era la mia esperienza cinematografica quindi è un po assurda come cosa però non mi sembravano troppo troppo finti invece no invece funzionano di mi rimangio tutto ultimo aspetto poi passiamo anche ad altro ultimo aspetto interessantissimo del film se ci pensate qualcuno magari non l'ha notato ma in tutta questa bellissima rappresentazione buonanotte thomas buonanotte a tutti grande grazie tutti in questo film c'è anche un pochino di spessore di profondità di messaggio sociale perché abbiamo una persona femmina che nella società dei comanci che una società che ha dei ruoli ben definiti per i maschi per le femmine decide di non accettare il ruolo che gli è stato dato ma vuole che vuole un altro ruolo e e devo dire che è stata gestita bene la cosa perché secondo me trasmette anche dei bei valori insomma semplici però appunto penso anche una ragazzina che lo vede e pensa che figa questa qua che vuol fare questo ed è determinato a farlo fine quindi da questo punto di vista non è neanche poi un film così vuoto di aspetti emotivi sociali interessanti e questo è tutto secondo me questo è tutto quello che io ho da dire mi sembra su questo film è stato fatto